Buon pomeriggio e buona domenica a tutti. Mi hanno condiviso ieri sera un video che parla di Matteo Bassetti, di quello che ha dichiarato durante un'intervista in una trasmissione televisiva di qualche giorno fa. E merita sicuramente attenzione, perché ha detto una cosa estremamente grave, una dichiarazione clamorosa a mio parere, che fa capire che dietro potrebbe esserci qualcosa di veramente più grande. Quindi le ipotesi che abbiamo sempre avuto in questi due anni e mezzo di fatto si concretizzano con queste dichiarazioni, in questo caso del Viro Star Matteo Bassetti. Aspetto che si è collegato un po' di gente, buona domenica a tutti, ciao Michele, ciao Maria, ciao Antonio, ciao Gianfranco, ciao Alfa, Spinola, ciao Liberato, buon pomeriggio a tutti e buona domenica. Vi farò vedere questo breve video, questo spezzone dell'intervento di T-Focus sulla 7, fatto a Matteo Bassetti, che è una dichiarazione talmente grave che fa capire che c'è veramente qualcosa che non va. Perché ha fatto una dichiarazione che capirete è di una gravità a mio parere estrema. Chiederei una condivisione in questo momento, un like cortesemente per creare nell'algoritmo un interesse tale da far vedere questa dichiarazione a tutti. È una dichiarazione pubblica e su un media nazionale che è la 7, quindi non sto facendo vedere nulla di strano, questo lo prometto prima, per l'algoritmo che non si offenda. È una dichiarazione, una cosa che ha detto Matteo Bassetti, infettivologo, conosciuto da tutti in Italia, uno dei personaggi, diciamo, degli attori principali durante la pandemia. Quando siete pronti vi faccio play, vi faccio vedere questa, girando la telecamera, direttamente dallo schermo del mio computer, vi faccio vedere cosa ha dichiarato Matteo Bassetti. Poi voi stessi capirete che è una cosa alquanto strana. Giriamo lo schermo, ok, lo vedete, siete pronti? Faccio play, faccio play, signori, ascoltate, ascoltate. Posso escludere che non arriverà in futuro un altro virus diverso, quindi il più responsabile di eventuale nuove pandemie. Mi pare che questo sia anche nell'agenda delle grandi organizzazioni internazionali. Posso escludere che non arriverà in futuro un altro virus diverso, quindi il più responsabile di eventuale nuove pandemie. Mi pare che questo sia anche nell'agenda delle grandi organizzazioni internazionali. Allora, non posso escludere. Andiamo a analizzare quello che ha detto Matteo Bassetti. Parole testuali del virus star, del virologo, dell'infettivologo Matteo Bassetti. Non posso escludere che non arriverà in futuro un altro virus diverso, quindi responsabile di nuove pandemie. Mi pare, sempre le parole testuali sue, mi pare che questo sia anche nell'agenda delle grandi organizzazioni internazionali. Parole testuali di Bassetti, ve le ripeto per quelli appena collegati, ve le faccio leggere. Bassetti è, non posso escludere che non arriverà in futuro un altro virus diverso, quindi il responsabile di nuove pandemie. Mi pare che questo sia anche nell'agenda delle grandi organizzazioni internazionali. Allora, signori, non l'ho detto io, cioè non l'ho detto nulla. Io sto ascoltando una diretta, una diretta che vi faccio rivedere. Non è, guardate, siamo su La 7, è un'intervista a Matteo Bassetti che a quelli appena collegati la faccio risentire. Dichiarazione veramente preoccupante e che merita un'indagine gravissima. Ma ascoltate. Posso escludere che non arriverà in futuro un altro virus diverso, quindi il responsabile di eventuale nuove pandemie. Mi pare che questo sia anche nell'agenda delle grandi organizzazioni internazionali. Allora, è un'intervista che è vecchia di giorni, ma i quotidiani stanno titolando da due giorni. E ha qualche giorno questa intervista. Però ciò non toglie la gravità, ciò non toglie che non abbia avuto il tempo di discuterla. Ma a questo punto, a questo punto, a cosa si riferisce Bassetti? Che agenda? Di cosa sta parlando? Mi pare, parole testuali sue, mi pare che questo sia anche nell'agenda delle grandi organizzazioni internazionali. Che cosa, parole testuali del professor Bassetti, non posso escludere che non arriverà in futuro un altro virus diverso. Quindi è responsabile di nuove pandemie. Io chiederei veramente a Bassetti di spiegare meglio la cosa, perché così crea ed è sta preoccupazione da parte della gente. Non ho avuto modo di osservare questa cosa. Mi è stata condivisa ieri sera da un caro amico, da Luca. L'ho guardato, ho cercato il video di riferimento e l'ho trovato. Diversi quotidiani ne parlano. Merita, sicuramente, ringrazio Stefano Pezzoli, il giornalista che ha pubblicato, Pezzola, che ha pubblicato questa notizia. In questo caso siamo su ArezzoWeb.it. È fondamentale andare a fondo a questa cosa. Quindi chiedere a Matteo Bassetti spiegazioni. Perché sicuramente non è una dichiarazione normale. È una dichiarazione che è lecito, è lecito. Il dubbio è sempre lecito. Lo ricordo a chi condivide i video e a chi decide quali video siano giusti o meno. Il dubbio è lecito, soprattutto in merito, in seguito a una dichiarazione del genere, è giusto porsi delle domande. Detto questo vi saluto. Buona domenica. Riflettete anche voi. Commentate. Datemi un parere nei commenti. Condividete. Chiedete ai vostri amici. È un video che sta girando già da un po'. Non l'avevo osservato io. Io stesso ho deciso di fare questa direttina per parlare insieme a voi perché non l'avevo ancora fatto. Quindi anche se la notizia ha un giorno, ha un giorno, ha un giorno, due di ritardo, non toglie che mi sia venuta voglia di discutere insieme a voi e aprire le menti e andare a discutere su questo dubbio presumo comune, presumo comune. Ciao a tutti e buona domenica.